Oggi... avrò degli incubi, suppongo. Come cavolo fa ad essere così fatto bene? Cioè, guardate il naso, va bene tutto il resto, ma questo naso è fatto troppo bene! Mo' tipo, guardo, in realtà era l'altro. Tipo quello finto e quello a sinistra. Quando qualcuno ti dice, ti sto tenendo d'occhio, mamma mia! Che poi domanda epica, ragazzi, ma le ciglia, in questo caso... Contano come capelli? Oggi, ragazzi, vedremo un paio di video di persone creative. Ecco a voi l'attrice di Squid Game. E sempre ecco a voi mezza attrice di Squid Game. E qui mi parte questa semplicissima domanda. Come fa certa gente ad essere così brava a disegnare? Ragazzi, io veramente non me lo so spiegare, però guardate, più va avanti e più sta diventando realistico. Cioè, io ve lo giuro, a una certa, se lo vedessi e qualcuno mi dicesse... Guarda, dimmi quale di queste due metà è quella vera, io non saprei rispondere. Ovviamente, in questo caso dovete andare a vedere tutte le imperfezioni, ma per il resto è troppo fatto bene. Vi rendete conto che le persone sono arrivate ad essere così brave, che riescono a disegnare in maniera fotorealistica, praticamente? Se non fosse che ho visto come è stato creato, avrei detto tipo, prima e dopo Photoshop, davvero. Questo video qui mi intrippa troppo, guardate, sta scendendo le scale... E magicamente diventa lui stesso le scale, cosa diamine sta succedendo? Io ovviamente so che c'è gente brava a fare video editing, però perché giocate con le mie emozioni in questo modo? La prima volta che l'ho visto mi è preso un infarto, ho pensato, oh mio Dio, cosa sta succedendo? Si sta suddividendo? Una persona che si sta approcciando a divorare una macchina, suppongo, no? No, ok. Magari. Madonna che bravo comunque, quel cotton fioc! Oddio, adesso la domanda è questa, vi si approccia una persona a disegnare sulla vostra macchina? Lo state vedendo che è letteralmente il Michelangelo, Leonardo da Vinci dei giorni nostri. Lo fate finire? Oppure tipo di te, no, levati dalle palle. E poi che cavolo, in questo modo mi stai costringendo a non lavare mai più la mia macchina? Sei semplicemente un infame, ecco che cosa sei. Comunque complimenti, ottimo lavoro, 10 su 10. Sei un infame, ma sei un bravo infame. Un ottimo infame. Che genio. Perfetto. È vero, è perfetto. In questo caso, se ci pensate, potete dire di aver ammaccato il frigo apposta. L'ho voluto personalizzare, ok? Non è stato un incidente, non ci ho sbattuto per sbaglio con la serie addosso, lo giuro. Questo video è bellissimo, vi fa vedere praticamente come, diciamo, viene creato uno di quei video virali, se così possiamo chiamarli. Guardate l'effetto finale, che figata, oh mio Dio. Più che altro, ragazzi, questa qui è la prova che non vi dovete fidare di tutto quello che vedete su internet. Vi giuro, sarà che è la qualità in 240p, ma è proprio difficile vedere dov'è che è editato. Più che altro, immaginatevi che cosa avranno pensato le persone quando hanno visto questo tipo fare le flessioni in mezzo alla strada. La gente del mondo è scema, madonna. In realtà no, sta facendo roba virale, in giro, a caso. Questo disegno è così semplice, ma allo stesso tempo così di effetto. Cioè, guardate, sembra che ci stia letteralmente spalmando il burro da rachidi. Che poi vogliamo parlare della flexatina che prende il burro da rachidi dal coltello. Uno troppo bello e due sembra vero. Gli dà un effetto 3D incredibile questa roba. Cioè, vi giuro, mi è venuta fame. Uuuuh, si mocca mai lasciato un'infamata, vedo. Qual è il disegno? Ok, pensiamoci. Ne ho fatti troppi per cascarci. Generalmente la fregatura è che nessuno è reale e tipo, ce ne sta uno sotto. Però tecnicamente questo è vetro, quindi non lo so. È quello in alto a destra. Circa. Il terzo dall'alto, se così possiamo dire. Vediamo se ho beccato bene. Ok. È la prima volta che ci sono riuscito. Non lo so, dai versi che sta facendo non mi sembra che lo stia durando. Non mi è venuta in mente la battuta. Possiamo andare alle montagne russe? No, abbiamo le montagne russe a casa. Le montagne russe a casa. Allora, dovete sapere che io sono una persona che di norma non beve il caffè nella vita. Però questa roba la voglio. Guardate, praticamente prendono e vi fanno il caffè Jiggly, se così lo posso chiamare. È troppo soddisfacente da vedere. Anzi, se devo essere sincero, non so neanche se lo berrei. Mi dispiacerebbe troppo rovinarlo. Dipingere una sconosciuta nella metro di New York. Ok, oh, mamma mia. Per un attimo l'ho visto che tipo stava disegnando un cerchio e tipo stesse facendo uno stickman. Fammi capire come ci siamo passati da questo a questo. C'è qualcosa che non quadra. Wow, oh mio Dio. È bello come all'inizio hai detto no, no, non voglio, grazie. Vabbè che forse effettivamente a New York ci sono parecchie persone che ti chiedono i soldi nella metro. Anche a Roma ci sono, quindi ha senso. Ma la mia domanda è, non senti tipo la puzza di vernice all'interno del treno? Cioè si muore. Che poi quanto tempo doveva stare all'interno di quel treno per riuscire a fare una cosa così precisa? Sì lo so, potrebbe essere anche fake il TikTok, però per questo ci chiudiamo un occhio. Lo sappiamo tutti che i TikTok non sono per nulla fake. Mai. Mica è un termosifone sta roba qua in basso a sinistra. Cioè lo sfondo mi sembra proprio una metro ragazzi. Sì. Beh in ogni caso complimenti per il bontaggio. Quello è stato molto buono. Vi presento una semplice ragazza che sta leccando un bastone dopo un gelato suppongo, una cosa del genere. Giusto? No! In realtà era tutta una menzogna ragazzi. Stava, non lo so cosa dia mi ne stava facendo. Sapete qual è il problema di questi video? È che la prima volta vi beccano quando non capite cosa sta succedendo. Ma poi dalla seconda volta in poi, non lo so, non riuscite più a rivederlo. Cioè ragazzi io ormai la bocca con la lingua eccetera non la riesco più a vedere bene quanto la vedevo prima. Ormai per me sono delle normalissime labbra truccate. Questa cosa piacerà un sacco ai collezionisti di Monster. Guardate qui che cavolo hanno fatto con delle semplicissime lattine. Cioè praticamente crea delle sculture di Monster. Anche se questa qui ha i denti. È un po' strana se devo essere sincero. È un'ottima decorazione per Halloween se ci pensate. Secondo voi almeno in questo modo vostra madre non ve le butta? Ho sentito di storie tragiche di persone con più di 20 tipi di lattine di Monster diverse e la madre che gliela buttate tutte insieme. In questo modo magari la spaventate, che dite? Quelle flori ali però mi piacciono un sacco. Tipo con le piante che crescono dalla lattina. Molto belle. Uh non l'ho notata! C'è pure quella di Harry Potter che figata! Ok adesso ne voglio una. Ne ho bisogno. Questa qua deve essere un bambusolo per forza. È troppo ovvio. È per forza la batteria in basso a sinistra ma c'è qualcosa che non va. Cioè guardate il colore è palesemente diverso ma non mi convince. Tanto lo so che non va. Ok. Sì sì toglilo. Tanto lo sappiamo che toglierai prima i tre. Che è il taccuino che non va bene. Sarà il taccuino per forza. Ok. È il taccuino. Mi ha bambuslato con l'orologio. Non c'ho per nulla pensato all'orologio. Come ho fatto a non vederlo? Dai che era pure palesemente falso. Ma che cavolo! Ragazzi queste infamate. Vedete queste sono le infamate che mi capitano un genere. Io lo sapevo inizialmente ti fanno abbassare la guardia perché pensi che saranno cose effettivamente vere. E poi boh! Quando meno te l'aspetti ti lanciano un orologio finto addosso di carta. Sto Apple Watch ha cambiato marca di colpo. È passato da Apple a Paper. Non so se avete visto questo trend ragazzi nel quale le persone si staccano pezzi del corpo tramite questo filtro no? Beh a quanto pare il nostro amico l'ha preso leggermente troppo la lettera. È diventato Voldemort guardatelo. Comunque con questo video potete vedere cosa succede se abusate dei filtri di Instagram, TikTok eccetera. Vi si andranno a ritorcere contro mi dispiace. Uuuuh questi video sono soddisfacenti tipo le persone che fanno in 3D pezzi di cose che tipo si erano rotte in passato. Vabbè che è assolutamente inutile come cosa però è bella da vedere se devo essere sincero. Guardate qua! Questo la prima persona che ci si appoggia lo spacca di violenza però vabbè. Complimenti per la creatività devo dire. Io l'avrei fatto con i noodle se devo essere sincero però ognuno ha il suo materiale preferito suppongo. Questa tattica di disegno è troppo bella. In pratica se vedete questa persona sta disegnando con il colore blu e con il colore arancione sullo stesso foglio. Un'immagine sopra l'altra. E tutto questo per un effetto del quale ho capito il funzionamento soltanto grazie a questo video. In pratica prendendo gli occhiali da cinema se passate con la lente blu non si vedono più le cose blu. E se passate con la lente rossa non si vedono più le cose arancioni slash rosse. Che poi ora che ci penso gli occhiali 3D blu e rossi in teoria non si usano più. Quindi sono tecnicamente un boomer adesso io che li ho usati per andare al cinema eccetera perché ora si usano tipo quelli con le lenti polarizzate o come cavolo si dice non lo so. Cioè è tipo molto probabile che un buon 20% delle persone che mi guardano non ha mai usato queste lenti. Oh mio dio ragazzi sono proprio vecchio. Questa idea qui avrei pagato oro per farla alle elementari ragazzi. Oro guardate che cavolo di genio. In pratica prendete e disegnate una normalissima torcia su un pezzo di carta e la ritagliate. Successivamente disegnate qualcosa su quelle cartelline ad anelli e dentro ci andate a mettere un foglio nero. Una volta che ci fate passare la vostra torcia se così la possiamo chiamare creo un effetto fighissimo. Questa roba è troppo bella oh mio dio ragazzi quanto avrei voluto farlo da piccolo. Vi presento una cosa che lowkey vorrei stampare. Cioè guardate che figata si va a formare praticamente questa pseudo torre ma non è finito qui. Ha stampato questo tubo per unire i due pezzi per creare non so che cosa sinceramente però è sempre bello. Ed ecco qui che arriva la mia parte preferita. Non so cosa sia questo robo non so come fa a funzionare così bene ma lo sto adorando. Cos'è? Madonna cos'è lo voglio? Cioè fatemi capire che cos'è tipo una sorta di lampada? Questa roba qui è stranamente soddisfacente non so davvero spiegare il perché. Vi giuro ragazzi. Dai non vi preoccupate ve lo rovino subito. Pensate se quelli sono tipo capelli. Tipo ci vanno a mettere i capelli e bruciano e si arrotolano su quello. Comunque è sicuramente un modo creativo per creare un vaso no? Pensateci ogni pattern di questa roba sarà diverso non ce ne sarà mai uno uguale. Qualcuno fermi quest'uomo è troppo pericoloso. Se ha saputo inventare questo pensate che cos'altro potrebbe inventare ragazzi. Ho paura.